Ciao a tutti e bentornati. I principali mercati azionari sono ai massimi storici. Parliamo degli indici americani S&P 500 e Nasdaq 100, ma anche del famoso indice MSCI World, che investe nelle aziende di tutti i principali paesi sviluppati del mondo e sul quale ho investito la fetta più grande del mio portafoglio, utilizzando l'ETF SWDA. Per questo motivo, ma anche per un'altra ragione che spiegherò alla fine del video, il mio portafoglio ha quindi raggiunto un valore di 108.000 euro, anche se durante la scorsa settimana ho venduto completamente le azioni di una delle aziende in mio possesso. Come avrete capito, abbiamo molte cose di cui parlare nell'episodio di oggi e inizieremo da questo signore che vediamo qui nella copertina del video, Peter Lynch. Peter Lynch è uno dei più grandi investitori della storia e ci ha trasmesso tanti insegnamenti grazie ai suoi libri e le sue citazioni. Per chi non lo sapesse, Peter Lynch ha gestito il fondo di investimento Magellan dal 1977 al 1990, 13 anni in cui ha ottenuto un rendimento medioannuo del 29%, spaventoso, un rendimento pazzesco se ci pensiamo. Nello stesso periodo, l'indice americano S&P 500 ha ottenuto un rendimento del 9%, sicuramente ottimo, ma letteralmente spazzato via dai rendimenti di Peter Lynch. La sua idea si basava sul concetto che anche noi piccoli investitori avessimo tutte le carte in regola per poter battere il mercato, a patto di studiare bene le aziende ed evitando errori grossolani e da principianti. Un errore che ha spesso sottolineato riguarda la vendita delle azioni e ne parla anche nel suo libro più famoso, che è sicuramente Un passo avanti a Wall Street. Qui sotto, nella descrizione del video, ho aggiunto il link per acquistare il libro su Amazon se foste interessati. Ecco cosa dice Peter Lynch nel suo libro a proposito della vendita di azioni. Molti investitori automaticamente vendono i vincitori, cioè le azioni che sono cresciute di più, e tengono in portafogli perdenti, cioè le azioni che sono calate di più. Questo ha senso tanto quanto strappare i fiori e innaffiare le erbacce nel proprio giardino. Si tratta quindi di un errore molto comune, poiché, psicologicamente, tendiamo tutti a pensare che se un'azione è calata molto, prima o poi tornerà a salire. Viceversa, quando il prezzo di un'azione che abbiamo in portafoglio è salito parecchio, tendiamo a pensare che non potrà salire ancora molto, e quindi psicologicamente siamo tentati di vendere per consolidare il guadagno. Magari addirittura potremmo pensare che sia intelligente vendere azioni in guadagno per comprare più azioni tra quelle che abbiamo in perdita, ed è letteralmente quello che Peter Lynch considera un grave errore. Se nel nostro giardino abbiamo dei bellissimi fiori, non dovremmo strapparli, dovremmo curarli e innaffiarli per renderli sempre più belli. Allo stesso tempo, se vediamo che ci sono delle erbacce, ha sicuramente senso strapparle via. Dobbiamo quindi essere molto razionali quando analizziamo le azioni del nostro portafoglio per capire se può aver senso venderne qualcuna. Se ci rendessimo conto di possedere alcune aziende che non riteniamo abbiano più prospettive di crescita interessanti, o addirittura abbiano dei fondamentali che stanno peggiorando in continuazione, dovremmo essere molto bravi e razionali da prendere la decisione corretta, vendere e incassare la perdita. Se abbiamo fatto bene i nostri compiti e le nostre analisi, tenere queste azioni in portafoglio sperando che le quotazioni tornino a salire può farci perdere ottimi guadagni, che invece potremmo ottenere avendo investito quegli stessi soldi in altre aziende che reputiamo abbiano ottime prospettive di crescita per il futuro. E non è comunque detto che le azioni che sono cavate possano tornare a salire. Ed è ascoltando questi insegnamenti che ho deciso di vendere una delle mie azioni nel mio portafoglio. Come vi avevo anticipato, si tratta delle azioni di AFC Gamma. Sono state le primissime azioni che ho acquistato nel dicembre del 2021. Un acquisto fatto senza alcuna analisi poiché non sapevo ancora nulla di come studiare un'azienda. Pensavo bastasse acquistare azioni ad alto dividendo per diventare ricchi. Ero veramente ignorante, ma sono contento di aver fatto grandi passi avanti a quel giorno. Avevo 50 azioni di AFC Gamma acquistate per un totale di 909 euro. Da quel giorno mi hanno pagato 139 euro di dividendi netti e le ho vendute pochi giorni fa per un totale di 530 euro. In questa tabella vediamo il flusso di cassa che ho avuto durante il corso degli anni e possiamo capire quale sia stato il pessimo rendimento generato da questo investimento. Il prezzo delle azioni durante tutto il 2022 e anche il 2023 ha avuto rendimenti negativi, anche molto probabilmente a causa dell'aumento dei tassi di interesse che ha portato gli investitori a preferire i rendimenti sicuri delle obbligazioni rispetto ai dividendi di un'azienda giovane come AFC Gamma. Ho quindi deciso di vendere le azioni e l'ho fatto la settimana scorsa, il 18 gennaio. Come vediamo in questa tabella, il rendimento medioannuo che ho avuto è stato del meno 14,9% e il rendimento totale è stato del meno 31%. Grazie ai dividendi ricevuti ho sicuramente attenuato la perdita, ma ricordiamo che i dividendi possono essere paragonati a delle vendite parziali sulle quali però paghiamo anche delle tasse, doppie tasse nel caso di aziende americane come questa, poiché c'è anche la tassazione del paese di origine, appunto gli Stati Uniti. Ogni volta che ricevevo un dividendo a questo veniva applicato il 15% direttamente dagli Stati Uniti. Sulla somma rimanente veniva applicata la tassazione italiana classica del 26%. I miei dividendi subivano quindi una tassazione complessiva del 37%. Questo deve essere un promemoria per ricordarmi e ricordarci di non scegliere mai delle azioni, soprattutto americane, solo e soltanto per il loro dividendo. Al netto di tutto e quindi calcolando i dividendi ricevuti ho perso solo 239€ che per il mio portafoglio attuale di oltre 100.000€ significa un banale 0,22%. C'è di più. Infatti vendendo in perdita le azioni di FC gamma ho realizzato una minusvalenza. Avendo acquistato le azioni per 909€ e avendole vendute per 530€ mi ritrovo con una differenza di circa 379€. Questa è una minusvalenza. Significa che nei prossimi 4 anni posso compensarla realizzando delle plusvalenze. Come dice il buon prof Paolo Coletti è come se avessi un buono sconto di 379€ sulle tasse che potrei dover pagare nei prossimi 4 anni. Ad esempio se io vendessi oggi delle azioni realizzando 379€ di capital gain non pagherei nulla di tasse poiché andrei a compensare la minusvalenza realizzata vendendo le azioni di FC gamma. Potrei già farlo visto che praticamente quasi tutte le azioni del mio portafoglio sono in guadagno ma non lo faccio adesso poiché sono fiducioso che tutte queste aziende possano continuare a crescere. Ma quindi ho già deciso come recuperare questa minusvalenza? La risposta è sì in due modi. Prima di dirvi come però vorrei solo chiedervi di mettere un like al video e iscrivervi al canale. sapete che mi fa sempre molto piacere. Vediamo il primo metodo per compensare la minusvalenza. Come vi avevo già anticipato un po' di tempo fa avevo deciso di spostare il mio fondo di emergenza e la liquidità extra dal conto corrente su uno o più etf monetari per avere comunque un piccolo rendimento circa il 3% anno e non tenere il cash fermo a marcire sul conto corrente. Ecco dato che avevo già iniziato a pensare di vendere le azioni di FC gamma ho iniziato a guardare se ci fosse qualche obbligazione singola a breve termine da poter acquistare sotto la pari per poter compensare le minusvalenze e ottenere lo stesso rendimento degli etf monetari. Così facendo quindi avrei potuto ottenere la botte piena e la moglie ubriaca. Un'obbligazione a breve termine infatti mi dovrebbe dare lo stesso rendimento degli etf monetari e cioè circa un 3% netto all'anno. Allo stesso tempo però mi permette anche di recuperare le minusvalenze cosa che non è possibile con gli etf quindi a conti fatti è come se il rendimento netto finale fosse anche leggermente maggiore potendo risparmiare le tasse. Ho quindi identificato alcune obbligazioni governative europee con cedola zero ma che quotavano intorno a 96 97 98 euro e con una scadenza entro alla fine del 2024. Significa che entro alla fine di quest'anno il valore di queste obbligazioni salirà fino a 100 quando scaderanno. In questo modo posso iniziare da subito a compensare una bella fetta delle minusvalenze generate con un rischio praticamente nullo poiché le obbligazioni a breve scadenza sono quelle più sicure e con oscillazioni di mercato praticamente nulle come vediamo in questo grafico. Le obbligazioni sono le seguenti e le mettiamo in ordine di scadenza. Obbligazione spagnola con scadenza il 31 maggio 2024. Obbligazione austriaca con scadenza il 15 luglio sempre 2024. Obbligazione tedesca con scadenza il 18 ottobre e infine un BTP italiano con scadenza il 15 dicembre. Mettendo una parte del mio fondo di emergenza su queste obbligazioni posso recuperare delle minusvalenze. Nel caso sfortunato in cui mi servisse a tingere al fondo di emergenza difficilmente comunque perderò dei soldi poiché le quotazioni di queste obbligazioni tendono a salire costantemente essendo molto vicine alla scadenza. Quindi le potrei vendere in qualsiasi momento se fosse necessario. C'è però anche un altro metodo a cui sto pensando per recuperare una parte della minusvalenza. Per farlo sarà sufficiente sostenere il mio lavoro qui sul canale facendomi una piccola donazione tramite il pulsante grazie qui sotto. sapete che ve ne sarei infinitamente grato. Ovviamente il vero motivo per recuperare una parte delle minusvalenze è un altro. Come sapete nel mio portafoglio oltre alle azioni di AFC Gamma che ho appena venduto ho anche un'altra posizione piccolissima e irrilevante nei rendimenti del portafoglio completo. Si tratta delle azioni di Banca Intesa San Paolo che avevo ereditato diversi anni fa. Si tratta di circa 200 euro totali di cui attualmente 56 euro sono di capital gain in questo preciso momento. Vendendo queste azioni quindi non pagherei neanche un euro di tasse sulla plusvalenza e andrei anche a snellire il portafoglio togliendo una posizione totalmente irrilevante. Infatti anche se il loro valore dovesse moltiplicarsi per 10 dall'oggi al domani, cosa altamente improbabile, andrebbe comunque a occupare al massimo il 2% del mio portafoglio. Bello ma non farebbe una grossa differenza sul totale. Inoltre Banca Intesa è una di quelle aziende che non so analizzare come quelle di tutte le altre banche e quindi non sono in grado neanche di stabilire se sia un investimento interessante oppure no. Qualcuno penserà perché le vuoi vendere visto che pagano dei buoni dividendi? Domanda sicuramente lecita ma praticamente solo con il capital gain che posso fare vendendo le azioni di adesso mi starei già pagando da solo 4 o 5 anni di dividendi futuri. Quest'anno infatti da Intesa ho ricevuto circa 12 euro di dividendi netti. Se calcolassimo tutti i 200 euro che andrei a ricavare dalla vendita delle azioni potrebbe essere equivalente addirittura a 16 anni di dividendi da parte di Intesa. Oltretutto guardando il grafico a lungo termine delle azioni di Intesa non mi sembra sia una di quelle azioni con trend di crescita storici come potrebbe essere una Coca-Cola, Pepsi o Johnson & Johnson. Non ho ancora deciso se vendere le azioni di Intesa oppure no. Cerco sempre di fare delle scelte che possano migliorare il mio portafoglio. Quindi ero giunto alla conclusione che avere le azioni di AFC gamma sarebbe stato peggio rispetto a non averle in portafoglio e quindi le ho vendute. Molto probabilmente farò una scelta simile anche per quelle poche azioni di Intesa. Ovviamente vi farò sapere qualsiasi mia decisione come sempre in totale trasparenza. A proposito di trasparenza, ho anche sfruttato la vendita delle azioni di AFC gamma per investire meglio a somma recuperata e ho così deciso di acquistare delle nuove azioni. Si tratta di un'azienda che ho iniziato a studiare da circa due mesi e che non avevo ancora scoperto quando a novembre presentai la mia watchlist completa qui sul canale. Per adesso non svelo nulla poiché sto preparando un video molto dettagliato che uscirà nei prossimi giorni. Secondo voi quale azienda potrebbe essere? Sono curioso di leggere i vostri commenti per scoprire le vostre ipotesi. Vi anticipo solo che praticamente non ne ha mai parlato nessuno qui su YouTube. Ho provato a cercare se ci fossero video anche di anni fa e non ho trovato praticamente nulla. Eppure sono convinto che sia un'ottima azienda che potrei quasi definire come se fosse nascosta in bella vista come direbbe Ludovico Rossini. Anzi a tal proposito potrei fare un video parlando di questo tipo di aziende. Aziende spesso anche molto famose che battono il mercato costantemente ma vengono snobbate solo perché magari sono dei business noiosi, non sono in hype e quindi non portano visualizzazioni. Fatemi sapere se foste interessati a questo video. Per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!